È ormai quasi un anno che i nostri ragazzi, che gli studenti delle scuole superiori sono chiusi in casa e che possono fare soltanto lezioni con la didattica a distanza. Un anno di scuola in clausura. Ormai la nuova generazione sta crescendo con la didattica a distanza, una situazione che potrebbe pregiudicare il futuro dei giovani, che devono prepararsi per un futuro solido. E allora il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale Veneto, Giacomo Possamai, lancia una proposta. La nostra proposta è che subito dopo gli anziani dell'RSA, gli operatori sanitari e le persone anziane più fragili, quelle con più patologie, si preveda di vaccinare tutti gli studenti dai 16 ai 19 anni delle scuole superiori. Si preveda ovviamente di vaccinare anche il personale scolastico, i docenti e il personale ate e si consenta loro di tornare a scuola, di tornare a scuola in sicurezza fino alla fine dell'anno. Perché il grande rischio che stiamo correndo è davvero quello che tra un rinvio e l'altro, tra una sospensione e l'altra dell'attività scolastica, questi ragazzi arrivino alla fine del loro percorso scolastico, senza essersi preparati a dovere, ma soprattutto senza aver fatto quel percorso di crescita che tutti noi abbiamo avuto la possibilità di fare.